Ciao a tutti, sono Amadori Garzia della linea Alitica Box e oggi ti faccio vedere un workout molto buono per lavorare ampiamente il corpo che lavora tutte le parti del corpo, in parte di suoi vari braccia, petto, gambe e che lo sai Incominciamo, cominceremo con la ruota, abbiamo la sbarola, la pala medica e la football e poi andremo alle frazioni Ok, parto! Ok, parto! Ok, parto! Ok, parto! Ok! Ok, parto! Ok, parto! Ok, parto! Ok, parto!